Il senatore del PD Michelefina come sempre ha illustrato il suo rendiconto relativo all'ultimo anno di attività parlamentare con interrogazioni, interventi, riunioni, tante le battaglie fatte ma ci sono alcuni punti fondamentali sui quali imposterà il futuro lavoro, la questione scuola ma anche legge sulla montagna. In relazione invece al lavoro parlamentare dice che molte delle battaglie non hanno avuto risposte da parte del governo. E poi vorrò dire in particolare due cose. C'è l'emergenza scuola all'Aquila, la porteremo in Senato, faremo un incontro in cui analizzeremo davvero la questione che riguarda gli indici di vulnerabilità ma anche in generale il fatto che in questa città in modo emblematico per il paese i ragazzi sono costretti a studiare per l'intero ciclo di studi in situazioni precarie. Lo faremo al Senato perché inviterò tutte le parlamentari e tutti i parlamentari di tutti i partiti a venire a vedere che cosa succede davvero all'Aquila. E poi dopo domani interverrò in aula sulla legge sulla montagna perché c'è un'enorme questione aree interne che nessuno vuole affrontare con determinazione. Noi pensiamo che sia davvero il tempo di una fiscalità dedicata che consenta a chi vive nelle aree interne di poterlo fare in modo più comodo dal punto di vista fiscale perché in realtà vivere in queste zone è più costoso e a volte diventa eroico e quindi è una condizione completamente diversa dalle condizioni urbane. Lo dirò in aula proprio nel merito di una discussione che riguarda una legge che è insufficiente e che noi vogliamo modificare proprio pensando a questi territori, a chi vive nelle aree interne del nostro paese.